Buongiorno. Ma che buongiorno e buongiorno? Ah, la fascia del buongiorno. Desidera? Vorrei del latte. Latte? Che latte? Latte per la mia foca. Ah, foca? Sì, e gli fa bene il pelo. Eh beh, certo, ora viva. E piuttosto, quanto crede ce ne voglia? Eh beh, non saprei, ma lei dove deve mettere? Dentro la maschera a bagno o dentro al bidet? Ma cosa hai capito? Glielo do col biperon. Corpì però, se mi fai capì come fai, tu regala il latte. Beh, venga a vedere, venga. Come no, io vengo alle corsa. È là, è là. Ah, ma è una foca a foca allora. Eh certo, cosa l'hai capito?